questa è la spia che indica più che altro che c'è bisogno di manutenzione genere per fare il tagliando ma ogni 5 mila chilometri appare anche se non c'è niente di guasto oppure niente nulla per insomma da intervenire allora come toglierla perché poi è fastidiosa vederla perché se il tagliando si fa ogni 15 mila chilometri ogni praticamente per tre volte vedrete questa questa chiave inglese la spia questa qua allora è semplicissimo io adesso con una mano non ci riesco però bisogna tenere premuto quello per azzerare bisogna spegnere l'auto allora ad auto spenta bisogna spingere tenere spinto il pulsantino quello che che azzera i chilometri e poi accendere quindi tenere premuto e accendere insieme adesso metto un attimo in pausa e lo faccio e vi faccio vedere che la chiave inglese va via ed ecco qua l'ho appena fatto vedete non c'è più quindi è semplicissimo basta che ripeto spingere del pulsantino quello che a zero chilometri e accendete il quadro dell'auto vi saluto